Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video voglio parlarvi di una serie che ho vista su Netflix che si chiama appunto Dog Trainer Scuola per Cani. Sarebbe questo. Parla di quest'uomo che si chiama appunto Jess Leverett, che è appunto un destratore molto famoso. Allora, nel primo episodio racconta appunto anche la sua storia strappalacrime del suo appunto primo cane, che è stato un pitbull. Lui appunto era un ragazzo che viveva per strada e quindi ha preso questo cane per sentirsi sicuro e poi questo cane ha aggredito un altro cane e quindi lo ha fatto sopprimere. Dice che da quel momento ha capito come una lezione divina come comportarsi con i cani e quindi adesso fa appunto l'addestratore di cani perché lui vuole rendere felici tutte le famiglie del mondo. Intanto lui è molto fissato con la storia del capobranco e usa molto spesso appunto il comando stop dopo che un comando è stato eseguito. Una cosa che non mi è piaciuto avere niente è il fatto che lui usa sempre il colare a strozzo e lo consiglia appunto per ogni addestramento. Quindi nel secondo episodio salva un cane iperattivo. Nel terzo fa vedere appunto questo cane da difesa. Nel quarto c'è questo maltipò e praticamente è quello in cui lui comincia a parlare del colare a strozzo. C'è anche la parte dell'umanizzazione, infatti la donna insomma umanizza troppo questo cane e quindi lui dice insomma sono cani, questo fin qui vabbè è ovvio. Cioè è giusto che dica così, però secondo me non è neanche giusto che lui faccia utilizzare sempre il colare a strozzo per ogni cane per correggere i cattivi comportamenti. E in questo episodio dice anche a questo ragazzino che lui potrà venire a lavorare da lui come addestratore cinofilo appunto quando sarà adulto. Inoltre aggiunge nella storia anche la parte della gravidanza di sua moglie, della nascita di suo figlio e della religione. Lui appunto è musulmano e quindi parla molto del fatto che Dio lo ispiri. Una cosa che ha molto utilizzato è il metodo della scatola. È un metodo in pratica in cui lui fa sedere il cane sempre su questa scatola e dice che appunto stimola il cane. Inoltre per lui è molto importante il fatto di dare sensazioni positive al cane prima di fare qualcosa e comunque spronarlo a farlo con sensazioni positive quindi dandogli molti primetti e usando il gioco, questo ha ragione ovviamente. Alla fine secondo me è comunque una bella serie anche se ci sono alcune cose che io personalmente non condivido, non so voi. In caso scrivetemi nei commenti così ne possiamo parlare se l'avete vista. Lasciate un like, scrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi video. Ciao!